Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Manifestazione in A1 fuori dal casello Val di Chiana, ci sono mossi in circuito una trentina di mezzi agricoli rallentando entrata e uscita dall'autostrada. Ancora in A1, personale su strada tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, direzione Bologna. Una perdita di carico tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, la direzione è quella per Livorno. Ancora sulla strada di grande comunicazione, tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest-Ponzacco, ci sono lavori in direzione Livorno. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa. Chiudiamo con i lavori a Firenze in via della Stufa, lavori edili, venerdì 2 febbraio, la strada sarà chiusa dalle 9.30 alle 19, il tratto interessato, quello compreso tra Piazza di San Lorenzo e via Taddea. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.